buongiorno a tutti e ben ritrovati e oggi con noi riccardo caccialanza direttore dell'unità operativa di dietetica e nutrizione clinica al politico san matteo di pavia e prima firma di un importante lavoro pubblicato in questi giorni sul journal of cancer dedicato alla malnutrizione del paziente oncologico dottor caccialanza intanto buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito grazie a voi sempre un piacere intanto vogliamo sottolineare una volta di più quali sono i pericoli nel corso delle diverse fasi di malattia di un insufficiente apporto di nutrienti nel paziente colpito da cancro per la gran parte delle patologie oncologiche ricevere pochi nutrienti in modo inappropriato insufficiente è un fattore di rischio ormai ha appurato a livello di letteratura mondiale su quelle che sono le complicanze dei trattamenti quindi tossicità durante chemio e radio immunoterapia e complicanze post operatorie per la parte di chirurgia oncologica e questo ormai è noto da 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 parecchio tempo e ha valorato da decine di studi quindi come gruppo di lavoro intrasocietario italiano che da quest'anno include non solo IOM, SINPE e FAVO ma anche dall'anno scorso SICO, i chirurghi oncologi, ASA, i dietisti e da quest'anno FNOPI che è la federazione del del delle professioni infermieristiche ci siamo sentiti in dovere di fare un pochino il punto di tenere alta l'attenzione. L'occasione è stata la rivisitazione delle raccomandazioni che avevamo pubblicato nel 2016 sempre su Journal of Cancer e siamo andati dopo un curato lavoro di revisione della letteratura a sottolineare alcuni aspetti diciamo un pochino nuovi innanzitutto la parte chirurgica che è una parte fondamentale la valutazione nutrizionale pre chirurgica il supporto perioperatorio ormai qualcosa di mandatorio che anche della letteratura scientifica ci consente di ridurre i tempi di degenza in maniera sostanziale. Due o tre giorni sono due o tre mila euro a paziente con supporti alimentari e un protocollo che costano poche decine di euro e poi sono stati sottolineati alcuni aspetti tra cui appunto quello della precocità dell'intervento nel senso che queste carenze nutrizionali ormai sono inaccettabili a livello concettuale anche perché veramente l'investimento è di poche decine di euro e i risparmi sono notevolissimi soprattutto se si considera il fatto che il paziente rientra molto meno spesso in ospedale se è ben nutrito quindi tutto ciò valora le stime di costi della malnutrizione che ad esempio l'ultimo dato a Espen di qualche tempo fa parlava di 170 miliardi di euro bruciati ogni anno per le complicanze della malnutrizione e il paziente oncologico è un paziente ad alto rischio di malnutrizione sin dall'esordio della malattia e quindi le conseguenze sono ormai note ed è venuto il momento in cui fino anche a livello istituzionale questi fatti devono essere attenzionati e poi attuati in maniera concreta quindi le conseguenze sono queste il documento non è un sostituto delle linee guida ma è una sintesi aggiornata anche perché l'idea è di parlare a tutte le specialità le linee guida specifiche hanno un po il problema che sono molto settoriali e sono molto lunghe anche parliamo di venti una ventina una trentina di pagine ed è difficile che un oncologo un chirurgo un radioterapista vada a leggere le linee guida nutrizionali allora il nostro compito la nostra idea è stata quella di fare una sintesi e di rendere in questo documento i messaggi chiari e semplici un po per tutti gli specialisti che hanno a che fare con il paziente oncologico non ultimo la figura infermieristica che è una figura fondamentale per la presa in carico precoce di questo è un settore su cui stiamo lavorando come gruppo di lavoro a proposito di messaggi chiari una raccomandazione tra le prime che voi suggerite all'inizio del lavoro è quella di effettuare la valutazione dello stato nutrizionale del paziente quindi vogliamo dare qualche suggerimento ai suoi colleghi per questa fase cioè per l'inquadramento diagnostico ma sì la parte nutrizionale non è non può mai essere sottovalutata o trascurata quindi nel momento in cui un paziente si rivolge a un professionista un oncologo per la parte diagnostica anche solo chiedere se il paziente ha perso peso e se ha difficoltà a mangiare qualcosa di ormai che deve essere fatto ad ogni visita lasciamo stare la composizione corporea e tutta una serie di valutazioni un pochino più approfondite però quelli che sono gli screening nutrizionali devono essere effettuati ad ogni visita oncologica e il la figura chiave che può essere effettivamente d'aiuto per coprire il bisogno importante la figura infermieristica se non tutti i professionisti devono valutare questi aspetti ma in una linea di percorsi la presa in carico quindi la figura che più di tutte intercetta i bisogni in maniera precoce continuativa la figura infermieristica la raccomandazione quindi è sempre di fare attenzione a questo aspetto non è perché un paziente ha un tumore che deve per forza perdere peso non è più così questo è uno del paradigmo sbagliato che è stato in voga fino a qualche anno o decennio devo dire anno e quindi il fattore peso non è un fattore ineluttabile soprattutto è vero che il paziente ha rischio di malnutrizione quindi ci sta che possa perdere il peso ma questo è un fattore comunque modificabile sia il peso sia la composizione corporea gli studi di intervento ci dicono al giorno d'oggi che attraverso un counseling o la supplementazione orale o anche la nutrizione artificiale quando proprio è necessaria lo stato nutrizionale può essere mantenuto se non migliorato e questo mantenimento dello stato nutrizionale è fondamentale per poter tollerare le cure oncologiche sistemiche chirurgiche quindi la raccomandazione base è che l'aspetto nutrizionale non sia secondario sia qualcosa che di cui il paziente viene informato subito e che si possa affrontare anche poi con un processo di informazione di monitoraggio costante precoce non vuol dire saltare addosso al paziente mettere sonde vene imbottire di supplementi orali integratori vuol dire innanzitutto dare i primi messaggi chiari e anche solo andare ad evitare strane strategie diete miracolose di tanti cancro kit vari eccetera eccetera bisogna che il paziente sia consapevole dell'importanza della cosa e informato sin dall'inizio su quelle che sono i comportamenti corretti e ovviamente poi che ci sia una presa in carico da parte di personale specializzato questo è fondamentale però nelle prime fasi anche solo evitare gli errori macroscopici e che il paziente sia disorientato e finisca tra blog di vari stregoni eccetera è un servizio che sembra banale ma per il paziente è molto importante. Quali sono le carenze nutrizionali più frequenti e che interventi possiamo suggerire? Ma allora le carenze più importanti riguardano soprattutto la parte calorico-proteica nel senso che i pazienti o smettono di mangiare o hanno una questione di malassorbimento facciamo l'esempio dei pazienti con tumore del testo collo che non riescono più a deglutire che hanno mucosite del cavo orale quindi la prima preoccupazione dal nostro punto di vista è quello di garantire un adeguato supporto di proteine e calorie poi ovviamente micronutrienti eccetera vengono di conseguenza. I primi interventi sono innanzitutto cercare di ottimizzare l'alimentazione attraverso un processo di counseling non c'è una dieta non devi evitare degli alimenti e mangiarne degli altri per ottimizzare la cosa devi adattare l'alimentazione a quello che riesce e quello che ti piace e quello che toldere soprattutto perché il paziente durante i trattamenti può avere degli effetti collaterali importanti. Questo va fatto con un processo educazionale di scambio con la figura fondamentale che è il dietista. Il dietista è in grado di seguire di ottimizzare di fare e prescrivere soprattutto seguire nel tempo le modifiche dietetiche questo è importante poi quando non basta la modifica dietetica c'è la supplementazione orale che è importante anche in letteratura ci sono sempre più studi che dimostrano che la supplementazione orale precoce aiuta a mantenere lo stato nutrizionale può essere efficace anche sugli outcome oncologici addirittura in america ci sono dei progetti che si chiamano quality improvement programs per cui questa supplementazione gratuita a domicilio al paziente oncologico malnutrito migliora anche la gestione economica perché il paziente sta più a casa sua meno tossicità e quindi un circolo virtuoso. Questi supplementi orali in alcune regioni sono forniti gratuitamente in regione Lombardia col decreto del 25 ottobre 2021 è stato fatto un sostanziale passo in avanti e quindi a livello regionale questo è un'arma in più che può essere effettivamente molto utile l'obiettivo in un'ottica nazionale è quello che poi questa supplementazione rientra in ILEA e quindi sta garantita a tutti i pazienti italiani sul territorio nazionale però c'è ancora un po' da lavorare. Quando queste misure non sono sufficienti la nutrizione artificiale non va vista come uno strumento terribile di fine vita ma è una terapia fondamentale quindi quando il paziente non riesce a deglutire o ha difficoltà di accesso all'intestino con la nutrizione enterale che è fisiologica e può essere anche poi sospesa addirittura i device tipo la PEG vengono tolti. Faccio l'esempio classico alla fine del percorso di radio e chemioterapia il paziente riprende progressivamente ad alimentarsi e dopo un po' i supporti di enterale possono essere sospesi e addirittura rimosso. Quando invece abbiamo una tossicità intestinale o un malassorbimento il paziente rifiuta o comunque non è fattibile la nutrizione tramite sonde la nutrizione indovenosa al giorno d'oggi è un'arma fondamentale per garantire il supporto nutrizionale al paziente. Non è una terapia di fine vita non è la stacca che viene prescritta gli ultimi mesi come purtroppo avviene ancora nella gran parte dei casi ma è un trattamento che deve essere precoce il trattamento nutrizionale se vogliamo che sia efficace deve essere precoce e puntuale nel senso che se il paziente perde 10 15 chili perché prendiamo delle settimane a decidere se deve mettere un catetere venoso o una PEG non facciamo sicuramente un buon servizio un buon lavoro quindi il messaggio chiave di queste raccomandazioni è che bisogna intervenire in maniera precoce e monitorare in maniera puntuale il paziente nel corso dei trattamenti altrimenti parliamo di futilità e priviamo dei pazienti di importanti occasioni terapeutiche e questo in un'ottica di medicina corretta sicuramente non è più accettabile. Ecco dottor Cacciaranza per concludere quali sono oggi le maggiori criticità da un punto di vista organizzativo e gestionale per garantire al paziente la giusta attenzione da parte degli operatori sanitari proprio sul fronte del suo stato nutrizionale in corso di malattia. Abbiamo poche strutture di nutrizione clinica e poco personale anche in queste strutture nel senso che non c'è solo l'oncologia la nutrizione clinica riguarda tutte le patologie che hanno un impatto sullo stato nutrizionale quindi non è per fare le solite solite richieste di risorse infinite eccetera però bisogna farci una riflessione nel senso che è questo il momento in cui la nutrizione clinica richiede un investimento a livello nazionale e non possiamo possiamo lavorare in rete possiamo lavorare con il consulto a telemedicina tutto quello che vogliamo ma servono serve un po' una rivoluzione un po' una è difficile trovare medici ci sono sicuramente tante criticità in diverse discipline non è che la nutrizione clinica sia migliore o più importante dell'anestesia delle malattie infettive però il problema è la sproporzione nel senso che pur con una rilevanza sempre crescente dalla letteratura scientifica dalla clinica le risorse rimangono veramente molto poche e quindi questo è il momento in cui a livello istituzionale bisogna fare uno sforzo e in maniera proporzionale crescente progressiva ma cercare di non far disperdere questo patrimonio scientifico culturale anche che in Italia tra l'altro ci vede non secondi a nessun paese ma è in questo momento in cui bisogna essere un po' concreti e tramite anche le associazioni pazienti le società scientifiche andare a cercare di fondamentalmente ottenere degli investimenti intelligenti e una programmazione anche nel tempo che però consenta di far crescere questo movimento clinico e scientifico bene grazie Riccardo Cacciaranza direttore dell'unità operativa di dietetica e nutrizione clinica San Matteo di Pavia grazie per essere stato con noi buon proseguimento e buon lavoro grazie a voi come sempre arrivederci